Buongiorno, ben arrivati. Un saluto a tutti i discenti, i partecipanti. Andiamo a iniziare una nuova attività formativa. Direi che prima di tutto vorrei lasciare la parola a Bazzoni per un saluto. Buongiorno Bazzoni, come sta? Bene, lei? Siamo operativi, quindi lascio la parola al periodo industriale Bozzoni, che è membro della Commissione dell'Ordine dell'Ente Preparante, dell'Ordine dei Periti Industriali di Brescia, con cui abbiamo una strettissima collaborazione e ovviamente porto i saluti anche al Presidente e a tutta la Commissione. Prego Bazzoni, la lascio saluto. Grazie di tutto, porto i saluti anch'io dal nostro Presidente Marco Zani. Ringrazio sempre Profire, che è sempre molto disponibile, molto afferrato negli argomenti. Secondo me è uno dei migliori portali che possiamo appoggiarsi per queste iniziative per quanto riguarda la preventiva incendi. Onorato, onorato. Speriamo di meritare queste belle parole, quindi andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare. Grazie di tutto, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Bozzoni. Allora ringraziamo Gian Battista, che rimane comunque anche tutor di questa attività formativa, quindi ricordo che l'attività audio-video è registrata, che sarà disponibile fra qualche giorno sul canale YouTube e che ovviamente ha l'obiettivo che adesso andiamo ad illustrare. Quindi fondamentalmente vi chiedo intanto se potete indicare il vostro, da dove vi collegate, così abbiamo un riferimento dal territorio oltre a quello in cui ci colleghiamo noi, che noi siamo da Milano insomma. Allora andiamo a, grazie vedo Simone, Brescia, Follonica, perfetto, va benissimo Roma, va bene Milano, Brescia, grazie, grazie. Allora io direi che possiamo partire, innanzitutto presentiamo quello che è il programma di oggi, di che cosa parliamo, la finalità, la validità e l'argomento che poi andremo a parlare. Allora oggi parleremo della, una strategia diciamo dell'RTO, nello specifico andremo a trattare l'S6, quindi parleremo di impianti in generale, parleremo di impianti di estinzione ad acqua e non solo, ma parleremo della strategia in generale, i livelli di prestazioni, cosa intendo nel livello di prestazione, parleremo ovviamente di quello che sono anche la grande differenza e il confronto tra norme nazionali e norme internazionali a secondo di quello che è il livello di prestazione, quindi parleremo delle soluzioni conformi e parleremo anche delle soluzioni alternative, questo è fondamentalmente il programma della giornata. Distingueremo fondamentalmente quello che è un impianto di controllo e un impianto di spegnimento considerando il fatto che chiaramente la strategia S6 insieme alla 7 e alla 8 sono le strategie che ci sottopongono le modalità e gli impianti atti a ridurre il pericolo di incendio a controllarlo o a spegnere, quindi l'obiettivo del corso è proprio quello di fornire ai partecipanti un inquadramento generale su quello che è il panorama normativo e applicativo relativo agli elementi di controllo e protezione attiva contro l'incendio, quindi RTO, richiamo, a questo punto non lo faremo, lo diamo per scontato, l'S6, quindi verranno analizzati attraverso alcuni esempi, alcuni richiamo, quello che possono essere. Abbiamo scelto per voi lo sprinkler e il water mist, uno è un impianto, facciamo e così facciamo già la prima domanda, mi scrivete in chat qual è un impianto di controllo e qual è un impianto di spegnimento tra sprinkler e water mist, se sono uguali. Insomma, questo è un po' il progetto del pomeriggio. Andiamo a vedere anche, ricordo che il corso è finalizzato all'aggiornamento del professionista antincendio ai sensi dell'articolo 7 del DM 5 agosto 2011, 11, incominciamo per favore ad abbandonare, l'ex 818 sono passati più di 10 anni e quindi non lo richiamiamo più. Quindi è finalizzato l'aggiornamento per 4 ore, è finalizzato anche al riconoscimento dei CFP, sono 4 più 3 per i periti industriali in generale, non solo quelli di Brescia, perché nel rispetto di quello che è il regolamento CNPI, mentre invece per gli altri ordini i CFP sono 4, tenendo conto e vi chiedo di tenere in considerazione quelli che sono i regolamenti nazionali, pertanto vi prego di prendere visione per le procedure. Come si deve effettuare poi il riconoscimento? Una volta effettuato il test a chiusura del test, del corso, tra qualche giorno sarà disponibile per chi supera il test con almeno il 70% delle risposte positive, dovrete poi scaricare l'attestato in partecipazione, inoltrarlo al vostro ordine di appartenenza che provvederà poi, conosce molto bene, le procedure di ogni singolo ordine per il procedimento dell'aggiornamento delle ore. Bene, ricordo sempre a tutti che la verifica che il professionista, la presentazione di una pratica, venga effettuato il controllo se è in linea, in norma con l'aggiornamento, è una considerazione, è una condizione che viene fatta sempre. Allora, vediamo chi ci fa compagnia oggi, l'ingegner Marco Montanari che dovrebbe arrivare, che arriva a momenti, è Claudio Ogniaccarini, quindi andremo a capire, ma prima di tutto due parole di presentazione, Marco Montanari è libero professionista, occupa di progettazione antincendio, ha uno studio di progettazione, si occupa nello specifico del mondo proprio del controllo e spegnimento, quindi dell'SSA, quindi Senior Fire Safety Engineering, Fire Risk Assessment e nello specifico lo Sprintware, infatti sarà lui poi a presentarci la parte dello Sprintware. Quindi direi che a questo punto possiamo andare a iniziare. Io direi che possiamo anche passare e presentare due parole all'ingegnere Claudio Ogniaccarini, laurea in chimica, tecnologia farmaceutica, università di Padua, dottorato in chimica, titolare di cattedra, ingegneria, cultura medica, sanitaria e su diversi atenei. Lui è autore di numerose pubblicazioni, riconoscimento e in qualche modo si occupa nello specifico dell'acqua nebulizzata. Poi ci sono io che sono il presidente di Profire, direttore di FS Academy, il nostro braccio operativo per il mondo della prevenzione, il mondo della progettazione con ingegneria della sicurezza antincendio e mi occupo del coordinamento di quelle che sono le attività formative. Faremo una pausa intorno alle 16 per poi arrivare alle ore 17 e 40. Abbiate pazienza, c'è scritto 6 maggio, ma direi che non siamo al 6 maggio, ma l'orario è corretto. 17 e 40 faremo il test e l'obbligo per il superamento del test 70 per cento. C'è questo refuso, è indicato 6 maggio, ma oggi siamo al 6 di novembre, quindi c'è un errore nel mese. Andiamo, vi ricordo e vogliate prendere nota per le prossime attività a chi ci segue, a prendere questo numero di telefono che è il numero dedicato, la linea dedicata all'assistenza in tempo reale in caso ci fossero problemi nella fascia oraria antimaridiano 8 e 39 e nel pomeriggio 13 e 30 14. Solo in queste fasce orari il telefono è operativo, vi preghiamo di non contattarci su quel numero perché lo trovate praticamente spento. Allora, la segreteria credo che abbia già condiviso il materiale e possiamo andarlo a iniziare. Allora, prima di tutto credo che sia necessario fare un piccolo passo indietro, parliamo di protezione attiva, vedo che è già presente anche l'ingegner Montanari, ma facciamo un piccolo passo indietro perché dobbiamo fare un inquadramento nell'ambito di quello che è il mondo della protezione attiva e quindi la prima cosa che noi dobbiamo tenere conto è che ad oggi, se noi dobbiamo tenere conto del mondo della protezione passiva, noi abbiamo due binari paralleli, cioè vale a dire abbiamo il mondo prescrittivo che è dato dal decreto impianti. Il decreto impianti che vi faccio un breve richiamo che voi conoscerete bene perché oramai è più di dieci anni che è attivo, però il decreto impianti è quella regola tecnica di prevenzione di incendi destinata al controllo dell'incendio, cioè quindi fondamentalmente nel 2012, poi effettivamente ecco perché si chiama DM 2012 2012, perché è stato pubblicato il 20 dicembre 2012 ma è entrato in vigore poi effettivamente nell'aprile del 2013. Quindi da questo punto di vista diciamo che è stato un momento molto importante perché se guardiamo al momento storico arriva subito dopo il DPR 151 con le novità enorme che il 151 aveva introdotto e che ci aveva presentato questa semplificazione, burocrazia, snellimento delle procedure amministrative di prevenzione di incendi, il 151 aveva introdotto anche queste nuove categorie A, B e C, aveva introdotto le nuove procedure, la categoria A tutte in autonomia dal professionista, subito dopo diciamo il legislatore ha sentito l'esigenza di fare un po' di riordino anche nell'ambito della protezione attiva. Ricordiamoci che nel 2007 era stata fatta per la parte di protezione passiva, ricordate i decreti del febbraio, del marzo e del maggio quello relativo all'ingegneria della sicurezza antigenica. Quindi nel 2012 viene fatto questo riordine generale in materia di protezione attiva considerando alcune considerazioni e introducendo delle procedure, delle condizioni che oggi sono validate, sono valide, pertanto io ad oggi ho la possibilità di scegliere o un procedimento con norme prescrittive, quindi scelgo il decreto impianti con tutte le indicazioni oppure parallelamente scelgo l'RTO e le procedure relative all'RTO. Quindi l'RTO, la valutazione del rischio, quello che è diciamo l'individuazione dei valori principali, il discorso legato alla valutazione del rischio, l'R vita, l'R beni, l'R ambiente, le strategie a secondo dei vari livelli di prestazione, soluzioni conforme, alternative oppure addirittura la verba. Questi sono praticamente i due binari che noi possiamo utilizzare nell'ambito della progettazione di un impianto di protezione attiva, scegliete voi quello che ritenete più opportuno. Ma ritornando al decreto impianti, alcuni articolati, richiamo alcune breve richiami fondamentali, si definisce un impianto, il decreto lo ha definito come progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione. Pertanto un impianto ha necessità di questi passaggi, la parte di progettazione, la parte di costruzione, la parte di esercizio e fondamentale la manutenzione nel tempo. Senza una corretta manutenzione, qualsiasi tipo di impianto in materia di protezione attiva, state tranquilli che non funziona. Quindi gli impianti di protezione hanno l'obiettivo di ridurre quelle che sono le criticità nell'ambito della prevenzione incendio. Questi si usano solo nelle attività soggette, quindi o noi lo prevediamo con specifiche regole tecniche oppure su indicazioni da parte dei comandi. Queste sono le principali indicazioni. L'articolato poi prosegue distinguendo dove si può utilizzare il decreto impianti. Per esempio il confronto tra decreto impianti e regola tecnico-orizzontale, mentre nel primo il decreto si applica solo ed esclusivamente per attività di nuova costruzione. Quindi solo ed esclusiva per quello. O nel caso di manutenzione straordinaria, cioè una modifica sostanziale. Secondo voi quant'è la modifica sostanziale all'interno di un progetto? Quanto vale in termini di percentuale? scrivetelo all'interno della chat, ragazzi. Vorrei avere un'interazione bidirezionale, vorrei avere un... ok. Allora Marco 50, 50, vediamo, perfetto. Gli altri siete in 30, 40, quindi mi aspetto... ok. Oltre al 50, perfetto, qualcuno indica il 40, no, il 40 non è una modifica sostanziale, rientra ancora nella manutenzione ordinaria, straordinaria. Quindi una modifica sostanziale quando io vado a modificare fondamentalmente quello che è lo stato esistente. Allora in quel caso il decreto impianti stabilisce che si possa utilizzare anche per attività già esistenti. Quindi queste sono le condizioni o nuove attività oppure esistenti con modifica sostanziale, cosa che invece all'interno dell'RTO sappiamo bene che l'RTO noi la possiamo applicare sia in attività esistenti e sia in attività nuove. Quindi la novità dell'RTO è che per tutto il mondo già esistente io in caso di volontà posso andare a riprogettare utilizzando la regola tecnica orizzontale, eventuali regole tecniche verticali se sono in attività previste. L'esclusione del decreto escludeva gli edifici storici, piatti di distribuzione, beni culturali, perché? Perché ognuno di loro ha comunque un riferimento normativo e nel tempo poi gli edifici ad esempio di interesse storico hanno avuto anche una regola tecnica verticali eccetera eccetera. Quindi questo è il campo di applicazione. Fondamentale novità del decreto era quello che indicava quelli che erano le attività, quelli che sono fondamentalmente gli obblighi e distingue cosa che aveva già distinto il 151 e va a distinguere fondamentalmente chi fa cosa e cosa è riportato. Cioè vale a dire che è precisa che gli impianti costituiscono, come abbiamo detto, accorgimenti a ridurre quello che sono le conseguenze atte agli incendio. Le richiama completamente, rivelazione, segnalazione d'allarme, controllo, estinzione, evacuazione di fumo e calore. Ecco una delle grandi novità che poi da Cenerentola prima, e vale a dire gli evacuatori di fumo e calore, prima del 2012-2012 non erano degli impianti, erano esclusivamente dei sistemi che venivano utilizzati a seconda delle esigenze. Potevano anche essere illuminazione, ricircolo all'aria, temperatura quant'altro, ma in maniera molto limitata. Mentre invece col decreto impianti ecco che si affaccia al palcoscenico l'evacuazione del fumo e calore che poi verrà consacrata nella strategia S8 dell'RTO attraverso il COGE. Oggi se dovessimo fare una valutazione è una valutazione nell'ambito della progettazione, della valutazione del rischio, è praticamente imprescindibile che io abbia una giusta collocazione e valutazione di quello che è la gestione del fumo e del calore. Perché? Perché non ne parliamo, ma fondamentalmente è uno degli elementi principali. Quindi da cenerentola passa a principessa e poi viene fondamentalmente consacrato come uno degli elementi fondamentali della gestione. Quindi cosa riporta anche il decreto? Cosa che prima del decreto non faceva praticamente nessuno, devono essere progettati, realizzati e mantenute a regola d'arte secondo quanto previsto dalle specifiche regole. Cioè praticamente le norme uni, norme di buona regola tecnica, fanno di riferimento a quello che è la corretta progettazione. Quindi questo era il momento. Nel decreto impianti suddivide anche le competenze che erano già evidenti dal decreto legislativo 139, ma fondamentalmente tutti i parametri utilizzati alla progettazione degli impianti sono soggetti responsabili alla valutazione del rischio, cioè solo esclusivamente il tecnico abilitato o il professionista antincendio. Quindi valutazione del rischio, individuazione dei valori progettuali e scelta delle procedure progettuali sono solo esclusivamente a carico del professionista antincendio, barra tecnico abilitato, perché nel decreto fa un ulteriore, sottolinea ulteriormente la distinzione tra tecnico abilitato e professionista. Mentre invece ricorda che chiaramente il mantenimento nel tempo è a a carico di quelli che sono i titolari e i responsabili titolari delle attività. Quindi gli enti pubblici e privato devono mantenere lo stato di progettazione fatto dal professionista o dal tecnico nel tempo attraverso quello che sono le manutenzioni degli impianti. Ovviamente abbiamo detto che attraverso poi l'anno successivo c'era sempre anche il decreto 7 agosto 2012 che in qualche modo dava le prescrizioni delle procedure, ma oggi non ne parliamo. Quindi fondamentalmente vedete che sottolinea nell'allegato tecnico la sostanziale differenza tra quello che è le competenze e le attività fatte da un tecnico abilitato e quello di un professionista antincendio. Voglio ricordare che prima del 151 la figura del professionista antincendio non esisteva. Non esisteva quindi col 151 si introduce questa figura e si fa una distinzione, si attribuisce che il tecnico abilitato ha facoltà a progettare con norme nazionali, europee e all'interno della comunità europea, mentre invece tutto quello che è progettazione a livello internazionale deve essere fatto solo e esclusivamente da parte di un professionista antincendio. Quindi se l'impianto è fatto a norma internazionale ci vuole la specifica tecnica dell'impianto a firma del professionista, cosa invece che si è fatta in norma nazionale. Perché? Perché fondamentalmente le norme di buona regola che siano UNI, CEI, CEN e della comunità europea sono riconosciute come norme di buona regola tecnica e quindi sono già validate a quel punto la valutazione del rischio è fatta direttamente dal legislatore. Cosa invece che se io prendo una norma internazionale è necessario che abbia la caratteristica di professionista antincendio al fine di poter effettuare appunto la specifica tecnica. Vedete che qui ce lo dice in maniera molto chiara, vada a dire solo e esclusivamente a secondo quello che è. Poi altra novità nell'allegato tecnico viene specificato nell'ambito del decreto impianti e senza ombra di dubbio queste novità. Cioè la novità relativa alla specifica tecnica dell'impianto, cioè dobbiamo andare a distinguere e descrivere le sintesi dei dati tecnici che descrivano le prestazioni dell'impianto, quindi le portate, le specifiche tecniche, le pressioni operative, le caratteristiche, la durata dell'alimentazione, la caratteristica dell'estinguente perché non è che sono tutti impianti ad acqua. Quindi vedete che qui poi ve l'ho riportato in rosso, riporta l'estensione dettagliata dell'impianto e le caratteristiche dei componenti da impiegare, quindi le tubazioni, gli aerogatori, i sensori, le riserve estinguenti, le aperture di evacuazione fumecolore, perché se parliamo di impianti, la tubazione dello sprinkler, della rete idranti e del water mist non sono tutti uguali e se prendiamo un tipo di impianto ad acqua non è detto che, ad esempio, se facciamo il confronto, ed è il confronto che faremo noi oggi, tra water mist e impianti sprinkler ovviamente le tubazioni sono assolutamente differenti. Quindi è necessario nella specifica tecnica e descrizione di quello che è l'impianto, come ad esempio dobbiamo richiamare obbligatoriamente la norma di riferimento, faccio un esempio, se noi dovessimo richiamare la progettazione di un impianto di una rete idranti è evidente che devo indicare anche quella che è l'edizione della norma. Faccio un'ipotesi, è chiaro che se non vado a indicare potrebbe esserci la colonna secca o no e quindi nell'ambito della presentazione della documentazione al committente è committente che poi deve trasferire al facility manager, cioè al manutentore, le procedure per quel tipo e quindi noi dobbiamo richiamare la norma che è indicata con l'edizione perché nell'edizione sappiamo quali sono le procedure da dover utilizzare. Quindi deve riportare l'estensione dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività. Quindi dobbiamo fare la nostra valutazione del rischio, non si parlava ancora nello specifico poi viene nell'RTO, viene specificata decisamente meglio. Quindi questo è un po' il discorso. Qui ripete, vedete che dice chiaramente se a norma internazionale ci vuole professionista antincendio, se invece viene fatto con norma europea basta anche la conformità eccetera. Ovviamente tutta la parte legata all'FSE, quindi la dichiarazione di corrispondenza è corretto funzionalmente a firma del professionista antincendio. Attenzione a non fare stupidate, magari se uno ha la caratteristica di tecnico abilitato, faccio una domanda prima di passare a questo. Siete tecnici abilitati, avete fatto voi il progetto, venite richiamati per l'asseverazione per il rinnovo periodico prima della scadenza. Lo potete fare sì o no? Vediamo gli altri cosa rispondono. Quindi la mia domanda è, Papa Stefano, che ha risposto sì, viene incaricato da me a fare un progetto, lui è un tecnico abilitato e tra quattro anni, cinque anni, prima della scadenza lo richiamo e chiedo a Stefano, Papa, se lui può effettivamente proporre, può occuparsi dell'asseverazione per il rinnovo periodico di quel progetto che aveva fatto. Lo può fare sì o no? E allora vede che forse ho posto male io la domanda. Non è possibile assolutamente che un tecnico abilitato possa effettuare l'asseverazione per il rinnovo periodico. Lo può fare solo chi è professionista antincendio. Attenzione a questa situazione perché si dichiara il falso in atto pubblico. È chiaro Stefano, avevo posto male io forse la domanda? Non la sentiamo. Si abbassa il microfono, deve abbassare il suo... Eccolo lì, perché se no non funziona. Non la sentiamo lo stesso. Va bene, ok. Comunque ho visto che poi ha effettuato la modifica a quello che era la domanda. Quindi ha esattamente questa la situazione, cioè il tecnico abitiato non ha facoltà assolutamente di poter andare ad effettuare l'asseverazione per il rinnovo periodico. Lo può fare solo il professionista antincendio. Altra domandona. Questo è l'allegato, questo che vedete è l'allegato tecnico al decreto impianti. E quindi qui cosa vediamo? Noi vediamo praticamente tutte quelle che sono le norme di buona regola tecnica, sono tutte indicate mancano qualcuno, ma questo era quello perché c'erano quelli già standard. Adesso io vorrei fare un'interazione, una domanda a qualcuno di voi. Proviamo a vedere chi è, chi magari possiamo interpellare. Allora andiamo a cercare qualcuno di voi che magari non ha risposto prima e gli diamo audio e video. Allora andiamo, individuiamo qualcuno. Eccoci qua. Allora andiamo da Giacomo, sperando di non trovarlo assente. Allora Giacomo, questo è un allegato che noi troviamo all'interno del decreto. Allora la mia domanda è, è chiaro che è evidente qual è secondo lei il denominatore comune di questa slide? Aiutiamo i colleghi così visto che lei è disponibile. Qual è il denominatore comune di questa slide? Il riferimento alle norme uniche, tutte norme uniche. Ok, sono tutte uniche, quindi però questi lo cancelliamo perché non è questo il denominatore comune. Perché abbiamo anche un TS, abbiamo anche una ISO, quindi non sono norme uni. Sono ancora bozze. Il denominatore comune di questa slide è che sono tutti impianti. Sono tutti impianti. Quindi, ritornando, facendo un passo indietro, abbiamo capito che quando parliamo di impianto, parliamo di progettazione, installazione e mantenimento nel tempo. La domanda che facciamo ancora a Giacomo è, se tutto, se questa è un allegato al DM 2012 2012, quindi un decreto ministeriale, cosa significa? Che queste norme richiamate all'interno del decreto sono norme obbligatorie o rimangono norme facoltative, secondo lei? Voi potete rispondere anche in chat gli altri. Sono norme che devono essere rispettate in modo prescrittivo. Sono norme prescrittive, però la mia domanda è, sono obbligatorie? Quindi io devo per forza utilizzare quella norma, chiamiamo, qui non c'è, facciamo una norma di riferimento. Per un impianto sprinkler? Deve essere utilizzata quella norma, per l'impianto di rivelazione incendio deve essere utilizzata la 9795. Ok, però la mia domanda, cerco di insistere un pochino, siamo obbligati a usare quella 12845 per esempio per l'impianto sprinkler o lei come professionista? Se possono utilizzare, se sono un professionista antincendio, posso utilizzare anche delle norme internazionali, non necessariamente la norma 1. Eccolo qua, questo è dove io volevo arrivare. Se Giacomo fosse un tecnico abilitato ha facoltà solo di utilizzare le norme nazionali ed europee, per cui lo può utilizzare. Perché? Perché la valutazione del rischio è stata già fatta dal legislatore, mentre invece Giacomo, che è professionista antincendio, ritiene che la 12845 non soddisfa le aspettative sue e soprattutto anche quelle del committente e lui dice no, io progetto come professionista, posso utilizzare un NFPE, posso utilizzare un FM Global, posso utilizzare standard di normazioni internazionali perché ho la facoltà di poterlo fare. Ho la superpatente e con la superpatente come professionista lei può andare a pescare la norma del Burundi che ne ha facoltà perché lei essendo un professionista, lei fa la corretta valutazione e quindi ritiene di poterlo applicare. Quindi attenzione, quando noi riceviamo una prescrizione da parte del comando dove ci siano ancora le prescrizioni, non è che ci dice fammi un impianto sprinkler e lo richiama con norma 12845. No, non è che dice faccio la prescrizione, impianto di controllo o impianto di spegnimento 1IN 12845. No, non lo indica mai perché questo poi è facoltà del professionista antincendio andarlo ad indicare. È tutto chiaro Giacomo? Spero che lo sia anche per tutti gli altri. chiaro, chiarissimo. Bene, no, lo sottolineiamo in questa fase solo perché? Perché se noi facciamo diversamente purtroppo incorriamo nel quadro sanzionatorio del decreto legislativo 139 articolo 20,2 che dichiara che uno dichiara il falso e quindi ovviamente ci sono dei procedimenti pesantissimi quando uno dichiara il falso. Allo stesso modo è quando dichiaro che ho fatto la separazione, che ho controllato, che è tutto a posto e non lo è. Quindi è un po' l'equivalente. Va bene, grazie Giacomo, grazie per averci pressato la sua disponibilità. Quindi attenzione signori, queste sono norme volontarie, ma io ho facoltà di poter andare a utilizzare le norme che ritengo più opportuno. Quindi richiamo anche velocemente questa circolare che è del 2012, la protocollo del 19-11-2012, in cui che cosa si chiede? Lo riassumo solo velocemente nel momento in cui, collochiamoci a livello storico nel 2012, sembra passato un secolo, ma sono solo passati più di dieci anni. Fondamentalmente nel momento in cui, facciamo questa riflessione, la normazione arriva con un ritardo maggiore. Facciamo l'esempio e torniamo un secondo indietro. In questa slide noi parliamo di impianti ad acqua nebulizzata, vedete? Ma nel 2012 l'acqua nebulizzata, il water mist, era solo un unigen TS, era un tecnica specification, fondamentalmente non era una norma. E quindi però nel 2012 di impianti a water mist, ad alta pressione, a bassa pressione, scegliete voi come, ce n'era già il mondo intero. Venezia è stata protetta per la quasi totalità di impianti ad acqua nebulizzata. Perché? Perché in qualche modo questo si era sentito l'esigenza su una norma di quesiti, su una serie di quesiti, arriva a dire, a firma dell'allora capo del corpo, che comunque nel momento in cui io ho prodotti innovativi, e questo vale ancora oggi, non è abrogata questa circolare né tantomeno il decreto, se io ho l'esigenza e ho l'innovazione tecnologica che viaggia in maniera molto più rapida rispetto al quadro normativo, se l'impiego, vedete come c'è scritto in maniera molto chiara qua, l'impiego di prodotti privi attualmente di apposite specifiche tecniche armonizzate, cioè delle norme, possono essere utilizzate giustificando la valutazione dei rischi eseguita dal professionista, e si intende professionista antincendio, sulla base di pertinenti certificazioni di prova da organismi autorizzati. Cioè cosa significa questo? Significa che io devo, posso utilizzare quel prodotto innovativo se noi facciamo sempre un passo indietro e richiamiamo l'acqua nebulizzata che oggi andremo a vedere, ricordatevi che chiaramente aveva l'acqua nebulizzata, aveva bisogno di fare che cosa? In scala reale delle prove di spegnimento. Non è che la norma, oggi una norma uni sull'acqua nebulizzata non c'è, ma prima nel 2012 c'è in via parziale, diciamo, non è proprio stracompleta, ma ci volevano che cosa? Ci voleva una verifica in stato reale, cioè si doveva per dire che l'acqua nebulizzata spegne una stanza, bisognava fare, il produttore era necessario, fare attraverso quelli che erano laboratori autorizzati, delle prove di spegnimento. E se il laboratorio stabiliva che era adatta, allora si poteva dire che quel produttore che aveva fatto le prove poteva utilizzare l'acqua nebulizzata come impianto di spegnimento. Quindi vedete la valutazione del rischio veniva fatta in base a quello che sono le norme nazionali e internazionali, ma soprattutto in assenza di queste norme, in presenza di queste specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzata. Vado dal laboratorio, faccio fare le prove di queste innovazioni tecnologiche, è fatto il riferimento dell'acqua nebulizzata, ma faccio riferimento a qualsiasi tipo di innovazione tecnologica. Oggi io presento al mercato l'innovazione tecnologica atta a ridurre il pericolo dell'incendio, se non c'è una norma di riferimento io ho l'obbligo di dover dimostrare assolutamente attraverso un laboratorio, se utilizzo il decreto impianto. Quindi quella circolare, quindi la circolare 14.229 del novembre 2012, richiamava e ripeteva al fine di rendere agevole il compito del professionista incaricato alla valutazione del rischio, il fabbricante, quindi il produttore, produce a documentazione tecnica correlata dalle certificazioni di prova attestanti le caratteristiche del prodotto innovativo e quindi non è che all'oste di Roma gli chiediamo se il vino è buono, no, ce lo deve dire un sommelier, ce lo deve dire un'altra persona, non chi vende il vino o chi produce il vino. La seconda parte è questa, cioè evidenzia le procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e all'eventuale limitazione di utilizzi individuate, ma dagli organismi certificatori, cioè un terzo che mi deve dire quali sono le limitazioni, il comportamento al fuoco e l'utilizzo. Sulla base di questo il produttore deve poi andare a certificare e produrre una serie di documenti al professionista antincendio che deve effettuare la sua asseverazione o che deve effettuare la sua certificazione. Vado a chiudere ricordando che l'asseverazione, il professionista è consapevole, questo lo firmate tutti i giorni c'è scritto sul modo, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359481 del codice penale, mi assumo la responsabilità considerando anche quello che dice il decreto legislativo 139, articolo 20, comma 1 e comma 2, nello specifico il comma 2 perché per quanto riguarda i professionisti. Questo è un po' il quadro, in corrispondenza a questo è chiaro che noi dobbiamo poi andare a contrapporsi a quello che è invece uno strumento più moderno, cioè vale a dire l'RTO e tutto quello che prosegue. Oggi di questa RTO andiamo a vedere l'equivalente del decreto impianti che è la strategia S6, quindi a questo punto io direi che lascio la parola, ho rubato solo nel tempo perché ho rubato nel tempo all'ingegnere Marco Montanari a cui do audio e video. Marco buongiorno, ben arrivato, scusa il punto che ti sei dovuto osservire ma come dire. Allora io direi che andiamo a caricare quello che è la presentazione, l'ingegnere Marco Montanari, lo abbiamo già presentato, una brevissima nota di presentazione, oggi ci porta e ci confronta quello che ho detto io sul decreto impianti invece per la strategia S6. Allora Marco ti prego di iniziare, nel frattempo io mi adopero per caricarti la documentazione che l'ho ricevuta ma ero impegnato nella presentazione. Prego allora, ti lascio introdurre la strategia S6 e adesso vado a caricarti la documentazione. Prego a tutti, in primo piano. Facciamo una carallata veloce della filosofia che sta dietro al decreto ministeriale che è quella di, ormai avrete sentito mille volte, è quella di individuare e valutare un rischio di incendi e poi fissare delle strategie compensative, togliendo alcune attività che hanno specifica normativa legata, i comuni SL1 e poi i verticali allegati al DM che disciplinano particolari attività con un po' se auto rimesse, centri commerciali, queste cose qui. L'approccio è in realtà del tutto diciamo la filosofia che ci sta dietro è una prestazione, cioè definisci tu un rischio come professionista di incendio e individua in base al rischio che hai valutato una strategia con delle misure compensative. E queste misure compensative, qui chiamo i livelli di prestazione, poi dopo possono essere segnati con dei criteri di attribuzione alle attività di cui ho valutato il rischio vinto, straziamente. Ti carico la documentazione, è pronta? Sì, quindi noi cosa ci approcciamo a guardare? Il capitolo 6 che riguarda quella che è l'impiantistica, diciamo l'estinzione dell'incendio, fra le varie misure naturalmente non c'è solo misure di protezione passive, ci sono resistenza a fuoco, compartimentazioni, strategia contro il fumo, quindi il professionista è chiamato, questo, no, questa non è la... Arriva, arriva, eccola qua. Eccola qua. Ecco qua, tolgo la mia webcam, allora. Mi ha dato questa, morissi direi proprio di no, comunque... Allora penso... Sì, questa qua. No? No, 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 aspetta. No? Dispensa scritta nel 2024, 11.06. Allora, 24... Allora, solo... Marco... Eccomi, sei qua. Non ti sento Maurizio? Forse è andata via la voce. La carico io, se non c'è modo. Lascio proseguire, te la carico immediatamente io, scusa, ho sbagliato io a prendere il documento. E quindi noi adesso cosa facciamo come professionisti? A livello di pareri e conformità andiamo a indicare, già nel modulo PIN, un modulo PIN per la richiesta del parere, per l'attività chiaramente tipo B e C, dove è prevista la richiesta del parere, andiamo a indicare se ad esempio a questo capitolo, che è il capitolo 6, rispondiamo con misure di tipo conformi, soluzioni conformi o soluzioni alternative. Quindi già la novità addirittura nella pratica di prevenzione, perché... E questo è fatto però in capitolo, quindi per ogni capitolo dobbiamo dire ma dove ho adottato soluzioni non conformi, alternative. E in sostanza se dobbiamo essere noi a dare delle risposte, quindi a fissare qual è il livello di prestazione per la nostra attività e decidere se è un livello di prestazione che non richiede nulla e allora non stiamo facendo una pratica di prevenzione perché non è accettabile un livello di prestazione 1 e corrispondente a 0, no? Chiaramente parliamo di sistemi di dotta agli incendi, di istinzione. Dove essere corretta questa? Sì, dovrebbe essere corretta. E ora avevo sbagliato io a prendere il documento non è un problema. Ho sbagliato, scusami. Oppure se dobbiamo... Ho la mia webcam. Se dobbiamo decidere qualche cosa di più. E quindi, fissati quelli che sono i livelli di prestazione, di cui 1, non è roba da ambito di prevenzione, incendi. Quindi non... Perché vediamo subito dopo che non è requisito che è normalmente accettabile. Dopodiché si comincia a salire di prestazione e la particolarità di questo capitolo è che le varie livelli di prestazione non escludono quello precedente, tolto l'1 ovviamente, cioè se io penso a un sistema di controllo estinzione manuale dell'incendio e questo prevede anche che rispetto il punto prima cioè estinzione del principio di incendio cioè se agli idranti devo avere comunque anche gli estintori. Analogamente se prevede un sistema automatico in tutta parte dell'attività quella tutta parte dell'attività è previsto anche un sistema di esprimimento manuale ed è previsto anche la presenza degli estintori quindi idranti estintori. Quindi i primi criteri qual è il criterio di attribuzione? Io ho già capito quali sono i livelli di prestazione più o meno devo capire a quale alla mia attività a quale attribuzione fare sostanzialmente e parametri naturalmente sono i soliti aree vita aree mini e aree ambiente e quindi posso dire che un livello di prestazione 2 io lo posso assegnare quindi solo diciamo sarà chiaro dopo sono estintori solo dove l'aree vita ad esempio non sia superiore se è un ambito industriale è da 2 perché se ho A3 è già non rispettato il punto quindi devo scalare al livello prestazionale superiore poi per poter omettere diciamo gli idranti perché il concetto è sostanzialmente questo vedete che devo rispettare tutti questi punti quindi basta che abbia un carico di incendio oltre 600 megajoule e già sono fuori oppure se hai un carico di incendio maggiore di 200 megajoule superficie lourde però deve essere minore di 4000 metri quadri se no sono già fuori quindi è facile per chi opera nel settore della prevenzione di incendi essere fuori da quel requisito qua che per l'altro non riguarda impianti riguarda diciamo presidi manuali no che al professionista interessano quando fa il professionista per una pratica di pre conformità ma interessa non praticamente nulla quando si tratta di progettazione perché sono non sono impianti non hanno non sono congiunti integrati quindi si tratta di semplicemente di ubicarli nelle posizioni corrette quando un livello di prestazione 2 non è corretto non è sufficiente non è attribuibile diciamo si scala nel livello 3 che quindi prevede il classico idranti più istintori il concetto sarà questo e per andare oltre i livelli 4 e 5 si deve fare un ragionamento diverso cioè cominciare a pensare a cosa è venuta fuori dalla valutazione del rischio incendi se particolarmente ho attività con alto affollamento oppure piani interrati dove è difficile intervenire incarichi di incendio molto alti posso dover ricorrere in certi ambiti della mia attività dovevo utilizzare un livello prestazionale superiore cioè l'impianto automatico e il 5 naturalmente può essere una richiesta del committente di tipo assicurativo una esigenza di business continuity no? le attività che portano a voler considerare l'impianto automatico o gli impianti automatici estese tutta l'attività protetta e gli istintori sono la prima misura no? quella che risponde al livello prestazionale 2 chiaramente sono qualche cosa che noi abbiamo detto interessa pochissimo no? perché non sono niente da 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 progettare sono semplicemente da 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 indicare e posizionare mentre quello comincia ad essere interessante per noi il livello prestazionale 3 che è quello che corrisponde alle reti di idranti quando parliamo di reti di idranti noi spesso facciamo riferimento a una norma uninazionale peraltro molto precisa che è la 10779 che è abbondantemente e quasi universalmente impiegata in Italia ed è ovviamente globalmente e quasi universalmente sconosciuta fuori dal confine nazionale ma questo come per gli altri come per un po' tutte le altre soluzioni di mitigazione o anche di valutazione del rischio non è l'unica strada che posso percorrere io potrei prevedere come livello prestazione 3 no? delle modalità progettuali anche differenti dai reti di idranti che consentono comunque un controllo manuale con altre procedure operative o altre soluzioni impiantistiche che non è detto che debba essere necessariamente un idrante 1i10779 no? in più questo ragionamento è molto radicato e molto utilizzato per gli impianti automatici in particolare per gli impianti sprinkler no? e uno dei motivi tecnici è è nato diciamo con l'avvento ai tempi stiamo andando negli anni di 2097-98 io feci il primo nell'anno 2000 ricordo e erano appena cominciati a mettersi in circolazione gli SFR che sono un particolare tipo di sprinkler che conseguono spingimento e non mirano controllo no? che però non erano normati dalle norme nazionali quindi si ricorreva e si ricorre tutt'oggi molto abbondantemente alla National Fire Protection Agency che è un ente internazionale che pubblica standard quello più degli sprinkler il 13 conosciutissimo e molto utilizzato in tutto in tutto il mondo e quindi qua mentre una volta io dovete chiedere una derogare adesso non ce n'è più bisogno perché è una soluzione alternativa già contenuta nel DM in pratica non è l'unica non è l'unica ci sono altri standard di consolidata esperienza e valore scientifico internazionale che possono essere impiegati ecco le soluzioni quali sono le soluzioni conformi per livello di prestazione gli istintori per il livello 2 la rete di idranti per il livello 3 più gli istintori vedete dovete rispettare anche il punto precedente in pratica per il livello prestazionale 4 un impianto automatico e qua la prima grande novità del decreto cambia la terminologia parla sistema automatico di inibizione controllo estinzione dell'incendio la protezione di ambiti dell'attività diciamo risposta alla valutazione del rischio che ho fatto allora in queste due righe c'è una grande innovazione che è stato frutto di anni di cambiamenti finalmente recepiti che questa chi ha i capelli bianchi come sottoscritto e ha fatto prevenzione di incendi prima negli anni 2015 normalmente utilizzava in modo esclusivo delle regole tecniche verticali di prevenzione di incendi in cui esisteva il mamma santissima delle disgrazie degli scenari impossibili che era l'impianto sprinkler e in tutti i standard veniva chiesto purché sia presente impianto di spiegimento automatico sprinkler beh sono anni di fesserie perché tra l'altro le norme che noi utilizzavamo i tempi non erano norme per l'impianto di spiegimento erano tutti impianti di controllo o impianti che ancora oggi si progettano no è impensabile ad esempio spiegare un'autovettura incendiata sotto il cofano non ci arriverà mai l'acqua quindi non è possibile fissare un target prestazionale in estinzione però potrei volere ad esempio controllare l'incendio in autovettura evitare che si propaghi a quelle a fianco e questo è tutto sommato quello che chiedono anche i standard del WDS no e quindi che oggi ci faccia ancora l'impianto in control mode no cioè impianto di controllo è più che ragionevole ed è più che ovvio è necessario ma questi non sono impianti di spegnimento e quindi il decreto ha introdotto un nuovo linguaggio parla di sistemi automatici di inibizione sono un impianto particolare a parte impianti di controllo e estinzione dell'incendio quindi o controllo o estingo l'incendio l'altra novità che tra le righe protezione di ambiti di attività perché alcuni tipi di impianti potrebbero essere destinati a degli ambiti in attività e non necessariamente ai comportamenti antincendio anche se tutto potrebbe far ragionare in questo modo no per esempio negli standard internazionali spesso non è richiesto che se ho un'area che devo decidere di proteggere l'impianto spring perché comunica con un'altra che però è molto rischio basso l'altra non è necessario che io sposti l'impianto in protezione che ho previsto magari a soffitto a tutto il comprensorio potrei anche decidere di valutare l'installazione solo su questa attività e non estenderla a tutto il compartimento antincendio e quindi anche qua la protezione di ambiti di attività è un altro termine nuovo cioè non è detto che questo ambito sia necessariamente un compartimento poi evidentemente il livello 4 che il livello 5 chiede la protezione del livello precedente perché funziona così estendendo tutta l'attività impiantistica allora io vi risparmierei non ve l'ho messo ma le classi di fuoco penso che chi fa mantenimento di prevenzione incendi abbia già una chiara idea e salterei anche quindi e quindi tutta la parte dei stintori ve l'ho messa ma magari qualcuno non ha presente che esistono fuochi dei grassi sui molti stintori oggi destinati a questa particolare classe di fuoco e dovendo parlare di impianti e non di presidi manuali tali e quali io andrei iniziare subito a vedere a vedere che cosa sono questi impianti automatici ok sulla rete sulla rete idranti abbiamo già detto vediamo un attimo dopo magari guardando lo standard 1.10.779 che è quello che noi utilizziamo più frequentemente e ribadisco che utilizzare più frequentemente non significa che debba essere utilizzato in via esclusiva no perché è possibile l'adozione chiaramente di soluzioni alternative quali sono questi sistemi di inibizione controllo estinzione dell'incendio basano il loro funzionamento su agenti spesso su agenti estinguenti che possono essere a gas aerosol polvo schiuma acqua nebulizzata frazionata a diluvio in particolare i sistemi di inibizione però sono una casistica un po' particolare perché più che spegnere un principio di incendio o un incendio lavorano al contrario un impianto sì ma una misura preventiva cioè invece di intervenire alla bisogna o la chiamata di un rivelatore o all'evento incendio questi sistemi sono mantenuti permanentemente e sottraggono la quota di ossigeno dall'ambiente che servirebbe per poter pensare di innescarne l'incendio chi è mai andato in intersus in fiera questi fiera di antincendio ci sono alcuni disponitori che spesso arrangiano cabine con queste macchine che riducono la percentuale di ossigeno tu entri e respiri perché il corpo umano anche se è in ambiente anossico se è una persona sana può respirare anche se naturalmente non può permanere per lunghissimi periodi perché non è pensabile fare 8 ore di lavoro in queste condizioni però non hai problemi di se una persona sana non ha problemi di anossia piuttosto che di fiat covort eccetera e provi a accenderti magari una sigaretta non ci riesci perché non c'è abbastanza ossigeno in concentrazione se aspetti l'aria è fatta al 179 di azoto un 21% di ossigeno e il resto è tutta roba la piccola differenza no piccole tracce di altri gas e quindi se io a questa miscela aumento l'azoto e diminuisco l'ossigeno con la macchina che separa questi due gas consentendo di concentrare in un canale in uscita come fosse un processo di osmose cui assomiglia molto fra l'altro ma un flusso in uscita o più più sigeno e un altro o più azoto io riesco chiaramente introducendo dei controlli con degli ambienti che abbiano una tenuta consumando energia perché uno dei contro è questo pianti energiori questi posso immaginare di tenere un ambiente in condizioni tali che un incendio non può verificarsi questo è il concetto quindi non è un vero proprio impianto non è un impianto di controllo né di espizione ma è un impianto di inibizione è stato messo in questo capitolo forse anche per ragioni storiche perché le prime deroghe in materia li hanno equiparati all'efficacia di altri impianti che erano naturalmente più tradizionali quasi sempre primiche di fatto queste soluzioni hanno un senso dove a mio modo di vedere c'è la necessità di conservare dei beni a cui l'ossigeno non fa bene ad esempio la conservazione degli ortaggi o degli alimenti spesso si utilizza per esigenza tecnica un ambiente impoverito l'ossigeno per far durare di più le merci allora se io in quell'ambiente faccio questo impianto posso ottenere il doppio vantaggio di eseguire un processo che mi serve dal punto di vista conservazione e fare anche sostanzialmente un impianto che ha una funzionalità antincendio e quindi lì chiaramente questo impianto non solo ha senso ma probabilmente anche la soluzione preferenziale perché comunque lo dovrei fare lo stesso e in ogni caso qual è la logica in cui un professionista chiama dove essersi chiamato a dare un livello prestazionale 4 o 5 deve utilizzare per definire qual è il migliore impianto che nel suo caso conviene proporre no cioè io potrei pensare vado dentro a un grande magazzino un colo una coppia e cosa vado a proporre non so in questo ambiente naturalmente io devo fare delle distinguere fare le valutazioni devo pensare ci sono delle incompatibilità della gente estinguente con il materiale presente e anche degli effetti della scarica sugli occupanti presenti se ad esempio possono questa scarica può rallentare o ritardare eccessivamente il processo adesodo quindi chi è chiamato a fare la scelta il professionista questo è che però per farla deve conoscerle questo è un motivo per cui con questi corsi magari chi non è uno specialista di progettazione di questi impianti può farsi un'idea di quale possibili strade si trova davanti per poter proporre un livello prestazionale che non è sempre molto comune ma che oggi sempre più viene utilizzato e fra questi sistemi uno particolarmente importante è l'impianto sprinker vedete che il decreto usa gli acronimi SPK per l'impianto sprinker usa la RI scusate per la reti idranti per sintetizzare un decreto così grande che quindi ma che cosa sono sono sostanzialmente prima di tutto dei rilevatori perché il pianto sprinker non ha già le testine aperte è comandato dall'incendio quindi rileva l'incendio per via termica si rompe l'otturatore sostanzialmente l'ampolla e l'estinguono nello stadio iniziale oppure lo controlla così che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi come ad esempio vi spiegavo per l'autovettura se è un'auto un mezzo in fiamme al primo interrato di un centro commerciale e l'incendio è sotto controllo i vigili di fuoco avranno buon gioco entrare togliere il cofano e intervenire per estinguere definitivamente l'incendio se invece non ho l'impianto magari questo incendio si propaga da altri mezzi e i tempi di percorrenza per i vigili di fuoco magari sono alti per via di traffico piuttosto per la distanza dalla caserma non riesco più a fare un intervento precoce magari perde il controllo dell'ambiente si verifica il scenario con effetti domino per cui diventa perso tutto è impossibile entrare nemmeno magari pensare di entrare dentro l'autorimessa stessa quindi le filosofie sono diverse oppure uno potrebbe anche pensare che ha bisogno dell'impianto springer per scopi che siano sostitutivi ad esempio della resistenza al fuoco già questo di fatto è nelle vostre corde cioè perché chi fa la valutazione della classe dei compartimenti con il livello prestazionale classico con il livello 3 sa benissimo che spendendo la cartuccia dell'impianto automatico si ottengono dei coefficienti diciamo moltiplicativi diminutivi del rischio e della classe del compartimento molto importanti e quindi in modo un po' brutale e sicuramente molto euristico si sa già che l'impianto springer contribuisce a diminuire sostanzialmente la classe del compartimento quindi il rischio di collasso della struttura oltre a questi metodi molto barbari uno potrebbe pensare di farlo invece col file engineering no spartizzano l'istribuzione di impianto e verifica con un programma di simulazione che con un impianto adeguatamente progettato non è possibile magari avere un collasso strutturale cosa che è stata fatta da sottoscritto ingegnere regnieri praticamente parliamo di giorni fa un grande impianto e quindi magari ecco questo potrebbe essere un obiettivo prestazionale molto complicato da svolgere ma in cui lo spiega e chiamato e il decreto spende anche qualche parola siccome è fatto uno sprinkler e dice anche quando sarebbe opportuno da che rischio livello di rischio in più essendo esplicito riferimento però alla norma nazionale anzi europea che la UNI 1245 quando sia opportuno adottare l'alimentazione di tipo superiore che è una definizione che richiama direttamente la definizione che viene data all'interno dello standard quindi ad esempio autonomia sufficiente pompa di riserva mancanza ciclo vegetativo impossibile coltrodurre corpi strani nella vasca eccetera eccetera gli sprinkler intervengono a certe temperature e dove che intervengono intervengono dove arriva il fumo caldo perché il principio è che il fumo sale dall'incendio lì coinvolge e coinvolgendoli li rompe quindi rompendosi questi intervengono e scaricando l'acqua vedremo dopo velocemente quali sono i parametri degli sprinkler ma oltre a temperatura c'è anche la velocità l'inerzia sostanzialmente l'intervento naturalmente e come è vero per gli idranti anche per gli sprinkler non devono essere installati in cui nelle zone in cui possa presentare controindicazioni questo tipo di impianto è chiaro che sopra un depolito di metalli alcalini altamente reattivi con l'acqua uno non può andare a installare l'impianto sprinkler per spegne perché il risultato sarebbe esattamente l'opposto ma magari senza arrivare a quei casi estremi potrebbe essersi dei casi in cui l'impianto sprinkler non è un impianto conveniente uno dei casi classici è ad esempio nelle reparti ad alta tecnologia dove c'è una prefettura particolarmente costosa qui gli sprinkler hanno vari metodi per evitare che una scarica accidentale o l'urto ad esempio da testina o qualcos'altro possa comportare immediatamente la scarica d'acqua su strutture molto costose quindi provocare danni ingenti però insomma c'è una situazione in cui uno potrebbe pensare che questa non è la soluzione ideale perché la scarica produrrebbe un danno così grande che a quel punto non vale la pena confidare nella riduzione del danno della business continuity per effetto dello sprinkler diciamo che comunque resta la soluzione tecnica preferenziale delle compagnie assicurative tutto sommato è la soluzione tecnica preferenziale di molta parte dell'impiantistica automatica e anche come dicevamo prima se io metto uno sprinkler non devo non è che di fatto questo rende inutile il livello prestazionale gli impianti riferibili a livello prestazionale inferiore in particolare quelli gli idranti che dovranno avere la loro autonomia e funzionare contestualmente il motivo è ovvio se ho impianti incontro in un modo l'estinzione finale la faccio come un idrante e lo sprinkler mi fa solo il controllo è ovvio che chiedo che ci sia un impianto manuale che funzioni in modo concomitante lo sprinkler perché se no il controllo non porterebbe al risultato che mi aspetta insomma e nel caso la scelta di cosa fare da grandi perché sostanzialmente si tratta di dire valutato il rischio valutato tutte le condizioni di esodo tutte le problematiche che ho mi trovo la situazione dove il cliente mi chiede una business continuita me la chiede la sua compagnia oppure il carico incendio cioè la situazione è pericolosa veramente per via dell'alta potenza che si potrebbe esprisionare dall'incendio magari grandi alti scaffali o perché c'è materiali particolarmente pericolosi allora io cosa devo fare cosa fa il professionista antincendio deve fare queste scelte chiaramente le attività di tipo B e C andrà a proporla e a discuterla col comando provinciale di vizio di fuoco di riferimento ma non solo dovrà probabilmente discuterla anche quando esiste con la compagnia assicurativa che paga il danno per incendi al cliente perché questo è una prassi sui rischi importanti abbastanza comune quindi però è il professionista che è il soggetto propositivo e anche qui per la soluzione conforme si applicano le norme indicate nella tabella e vedete c'è una bella tabellina che per le varie tipologie di impianti per i vari impianti di inibizione controllo estensione che siano propone delle norme tecniche già consolidate o anche solo dei technical sheet e ce n'è per gli sprinche per i stemmi a gas a polvere con la schiuma impianti spray ad acqua no dare soli alla riduzione di ossigeno non vedete che è stata fatta la norma unienne che pochi anni fa non c'era e queste cosa sono le norme che devo obbligatoriamente usare punti di domanda chi vuole rispondere in chat sono le norme che devo usare queste che si azzarda a buttare una risposta o sono io che non le leggo e Maurizio non le vedo io le risposte ho fatto una domanda difficile no non hanno ancora risposto vogliamo riproporre la domanda allora vi dico io questa bella tarbeldina dentro il DM sono le norme che devo obbligatoriamente usare queste perché per ogni impianto vedete c'è uno standard quasi tutti sono unien ce n'è uno uniso ok le risposte sono facili Marco la stessa domanda l'ho fatta io prima in questo caso però siamo nell'RTO quindi vedo che comunque ti rispondo non obbligatoriamente per le soluzioni conforme dobbiamo usare queste ci sono le allora poi non obbligatorie serra dice internazionale tecnico abilitato insomma va bene allora mi hanno detto se sono professionisti tu prima hai detto il motivo no perché che devo essere professionista antincendio per proporre una di queste cose magari chi sta facendo la pratica o che sta facendo il progetto non è un professionista antincendio e quindi si guarda bene proporre qualche cosa che magari non potrebbe progettare ma andiamo a vedere qual è la molla scatenante che io potrei pensare che mi porterebbe a dover decidere un impianto piuttosto che un altro o uno standard rispetto che un altro magari ricorrendo appunto soluzioni non conformi perché se il progetto che faccio utilizza una di queste standard la soluzione è conforme non ho bisogno se non di rispettare lo standard e di fare altro se invece la soluzione la faccio utilizzando qualcosa di diverso spalla di soluzione alternativa chiaramente oltre al fatto di essere professionista antincendio e bla 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 dovrò anche pensare a un buon motivo per cui la sto facendo è uno dei buoni motivi ad esempio vi spiegavo prima è la richiesta delle compagnie assicurative perché molte ritengono e secondo me giustamente che alcuni di questi standard siano obsoleti e non garantiscono i stessi livelli di sicurezza di altri standard resistenti di tipo internazionale faccio un esempio NFPA piuttosto che un IN 12.045 in altri casi ci c'è un'esigenza o anche FM Global certamente altri casi c'è un'esigenza magari che un cliente è assicurato con FM Global per assicurare il suo cliente chiede che rispetti dei suoi standard altre volte invece e qua casca l'asino perché il professionista non conosce gli standard e fa stupidate ad esempio stanno prendendo piede dei stimi di deposito con che usano delle cassette in materiale plastico dette UDC unità di carico possono essere messe in 2000 modi diversi ne stiamo a discutere di dimensioni diverse e certo è che se io vado a affrontarle con un impianto Sprink ad esempio la UNIN me lo classifica immediatamente come rischio speciale e prevede subito l'impianto schiuma non ha alternative no non ha una soluzione dove il rischio è collaturato sostanzialmente dai contenitori materiali plastico la soluzione è un impianto Sprink più schiuma contenente schiuma lo schiamano lo flow praticamente e fare un impianto schiuma oltre ad essere particolarmente costoso pone problemi ambientali di captazione dell'acqua scaricata di smaltimento controllato eccetera eccetera magari invece posso trovare un altro standard che mi risolve il problema semplicemente con acqua oppure possono essersi dei tipi di materiali o delle disposizioni di materiali che uno standard non prevede e dichiaratamente non risolve come gli open top container cioè le cassette senza coperchio che in FPA ad esempio non considera che però sono risolti da altri standard quindi l'orientamento che può avere il professionista che decidesse di scegliere una soluzione una volta che abbia deciso chiaramente quale sia la strada tra i varie tipologie impianto proponibili deve anche capire qual è lo standard di riferimento che è più conveniente utilizzare o che gli risolve il problema invece spesso assisto o vedo delle relazioni tecniche con specifiche tecniche che sono assurde cioè saranno impianti saranno conformi un INN punto e vabbè poi magari vuoi proteggere un rischio che un INN non protegge e allora qui per questo che è importante che ci metta le sue professionisti di incendio quando ci sono questi scenari perché non li può risolvere lui in altri sistemi cioè non si può inventare un impianto fuori standard perché tutti questi impianti quelli automatici normalmente vengono validati da sperimentazioni del vero scala reale no centri prova si può simulare con programmi fine engineering quello che si attende il risultato magari sulle strutture e altre cose ma poi l'impianto va progettato su uno standard no bene per fare questo quindi bisogna conoscere le varie possibilità ed è molto più probabile che sia un professionista di incendio che si occupa specialmente di presentazione ambientistica che le conosca e quindi magari la persona a cui rivolgersi da parte di chi sta predisponendo la pratica per definirle questi criteri no è un altro aspetto non da poco è l'interferenza tra impianti di protezione attiva ma non solo una delle interferenze più note è quella tra impianti sprinkler e impianti il controllo fumo e calore che è risolvibile però rispettando certe condizioni che guarda caso cambiano da standard da standard no ma queste interferenze esistono anche tra impianti sprinkler e magari altre tipologie di materiali da costruzione ad esempio le vellette dei centri commerciali no e purtroppo lo sprinkler se è ostruito non funziona no e quindi è importante che quando si definisce magari la protezione tener conto se c'è un ricorso abbondante di queste strutture se il soffitto consente l'installazione di un impianto di un certo tipo piuttosto che di un altro e secondo quale standard quindi nella scelta quindi sono tanti parametri orientativi no e le soluzioni non sono solo quelle che trovate nella tabella ma oltre alle varie tipologie di impianti che si possono affrontare anche gli standard di presentazione possono essere diversi e taluni applicabili e casi in esame altri no il DM va avanti dicendo vabbè se c'è un impianto RAI ci vuole la comunicazione tra i due sistemi in realtà più che l'impianto ci dice solamente che gli allarmi che butta fuori l'impianto Sprink che sono flusso d'acqua ad esempio piuttosto che una valvola chiusa che più che l'allarme non è l'anomalia vanno remotizzati il sistema di controllo di questi allarmi non dice che gli impianti RAI è quello che comanda lo Sprink perché abbiamo detto prima che l'impianto Sprink non ha bisogno di un impianto RAI per poter funzionare normalmente e naturalmente se non è presente un impianto i RAI devo prendere delle procedure mettere in campo delle procedure per la gestione dell'emergenza da far eseguire agli addetti della squadra facciamo un esempio gli organi di sezionamento degli impianti Sprink che vanno monitorati in posizione questo dice la nostra norma poi potrebbe essere situazioni in cui questo è impossibile da farsi e esempio nello standard NFPA metodo alternativo registro dell'addetto che giornalmente fa il giro di tutti i presidi verifica che siano aperti bla 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 diventa la misura gestionale analogamente se non butto fuori l'allarme per Sprink in funzione dovrò implementare altri sistemi per dare l'allarme ed evacuare eventualmente i locali allora velocemente sulle reti idrati io penso che chiunque tra l'altro il discorso è organizzato dal collegio dei periti industriali quindi c'è un impianto molto comune per i fatti incendi è questo è fatto da un'alimentazione idrica una serie di tubazioni fisse preferibilmente chiuse d'anello questo è un criterio di disponibilità del sistema cioè per aumentare la probabilità che anche in caso di guasto si abbia una parte grazie ai congeni di sanzionamento io abbia una parte di impianto che continua a funzionare poi ho attacchi in mandata per la visita del fuoco valvole e apparecchi erogatori e lo standard che noi andiamo spesso a utilizzare anche se vi ho detto non è cogente l'utilizzo di questo standard salvo che qualche qualche regola verticale di quelle che trovate in allegato al DM18 imponga esplicitamente l'uso della Uni 1779 e come si compone uno standard che sia nazionale o internazionale non è molto importante più o meno sempre fatto così c'è una norma di progettazione ed esecuzione che richiama su interno norme di prodotto eventualmente norme di manutenzione o altri standard no? e questa è l'impostazione che poi troverete in qualunque stando internazionale con la differenza che magari quindi norme di prodotto sono norme un'in quindi troviamo presidi certificati in un altro caso potremmo trovare presidi di differente approvazione l'apparecchio di erogazione è permanentemente collegato al sistema di tubazioni fisse quindi permanentemente vuol dire che non è collegato alla bisogna no? anche se questo è molto più vero con gli idranti in aspi che con gli idranti sopra il suolo e sotto il suolo in cui gioco forza il presidio termina con gli attacchi e le dotazioni sono fornite nella cassetta corredo mentre parliamo di idranti in aspi chiaramente questi sono già collegati e pronti ad essere impiegati un primo errore che si vede spesso in giro almeno nelle specifiche tecniche nell'uso dello standard è la differenza tra reti ordinarie la prima classificazione che abbiamo cioè tra le reti ordinarie e quelle che sono invece le reti all'aperto allora le reti ordinarie sono reti che sono rivolte a rischi che si connaturano all'interno di un edificio possono essere stabilimenti scuole complessi industriali parcheggi interrati quello che volete per questo tipo di presidio che è quello classico che ogni progettista ha dovuto affrontare in passato sono previsti due tipi di protezione quella interna e quella esterna no quella interna si realizza con cosa con dei naspi 1.25 delle cassette 1.45 protezione esterna si può fare con idranti sopra solo sotto solo quello che vedete qua è una dotazione il detto collo di cigno è una dotazione per l'idrante poter utilizzare l'idrante sopra solo ma l'oggetto di certificazione è solo questo le reti all'aperto invece sono destinate a protezione dell'attività che sono ubicate all'aperto come campeggi ma anche impianti industrial all'aperto no in pratica dove è possibile anche avere un rischio il rischio gelo che è molto comune con questi tipi di impianti qui almeno al nord e ci distinguono non una protezione interna o un esterno non avrebbe senso stiamo parlando di impianti all'aperto ma due modalità distinte e prestazionali distinte per progettare la stessa rete quindi mentre nella rete ordinaria posso avere una protezione interna e eventualmente anche una protezione esterna nelle reti all'aperto o su una o l'altra se la faccio una rete capacità ordinaria la faccio con cosa con dei naspi o delle cassette unico nante cinque però per un criterio che è stato mutuato dal codice che è quello dell'abbondanza di leggenti istinguenti capitolo s9 se non ho la grande capacità mi viene richiesto comunque di integrare con un idrante almeno un idrante uni per abbocare i mezzi di vigili del fuoco cosa che non viene mai chiesto se chiaramente c'è già un impianto rete idrante dell'aperto grande capacità perché è realizzata con solo questa tipologia di idranti le pressioni di esercizio sono state ridotte qualche anno fa oltre che un minimo naturalmente che deriva dal criterio prestazionale che devo dare sono state anche ridotte nel valore massimo per consentire un utilizzo sicuro dei presidi perché un grande uni 45 a 10 bar potrebbe essere difficile da manovrare è pericoloso per chi lo manovra parlando di presidi di idranti per la protezione interna per l'idrante esterno dove si presuppone l'utilizzo da parte personale del strato vigile del fuoco le classiche idranti sopra solo non ci sono queste limitazioni di pressione massima operativa sono quelle dovute a certificazione dei materiali naturalmente per le sole reti all'aperto noi abbiamo anche possibilità di fare impianti a secco che sono impianti che sono permanentemente vuoti e che vengono riempiti con dei pulsanti azionando una lavavola di luvio solo quando in caso di necessità e chiaramente hanno un loro perché da dove ci sia un rischio gelo sia antieconomico ma anche tecnicamente impossibile interrare tutta la rete utilizzare sugli del anti soprassuolo quindi i nostri amici da partita sono questi i primi due normalmente utilizzati per capacità ordinaria oppure per protezione interna gli ultimi due per grande capacità o protezione esterna delle reti ordinarie la prima cosa da capire è che quasi tutti questi presidi sono normati da standard normati in parolone comunque sono regolati da degli standard che sono un ienne quindi la conseguenza pratica è che questi dispositivi sono marcati ce mentre le dotazioni che devo aggiungere per rendere fruibile idrante soprassuolo e idrante sottosuolo quindi colli di segno le lance eccetera sono disciplinati da uno standard italiano che ha cercato di coprire il buco che si era voluto a creare cioè hai parte dei presidi che sono certificati nella loro interessa quindi rubinetto lancia manichetta eccetera eccetera tutto fa parte di una box che comprende anche il contenitore certificato quindi su tutto di quello no altra cosa quest'idrante soprassuolo di cui non ho un coefficiente di flusso non ho nulla c'è ioda certificazione delle imposizioni ma in realtà la sua capacità di scarica dipende molto dalla lancia che andrò a applicare e questa lancia può avere diametri all'usevello diversi motivo per cui è stata introdotta anche uno standard sulle lance andando avanti più velocemente questi sono i congegni che possono avere trovare in campo questi impianti l'equazione di flusso questa è un'equazione che si utilizza sia per la procedurazione di impianti sprinkler che per gli dati in sostanza è indipendente dal presidio che scarica acqua proprio perché formalmente la modalità è uguale c'è un tubo in pressione che ha un buco qualche cosa che consente di scaricare a questa velocità e a queste pressioni la scarica si può descrivere come il prodotto di un coefficiente del flusso che chiamiamo K per la radice quadrata della pressione cioè QK per radice di P se io prima portata in litri al minuto K uso querometrico e la pressione in bar uso la seconda equazione ed è quella la modalità classica di scriverla è questa qua se invece dei bar uso in megapascal che sono 10 bar naturalmente coefficiente del flusso sarà lo stesso però dovrò moltiplicare 10 bar fanno un megapascal se voglio utilizzare megapascal devo moltiplicare sostanzialmente per 10 ma sono ovvia conversione in unità e misura la cosa da capire è che anche le reti idranti tutti i presidi non sono uguali fra loro non solo non sono uguali fra loro anche tutti gli stessi presidi dello stesso tipo non sono uguali fra loro ancorché certificati CE perché lo standard per cui facciamo riferimento prevede tanti diametri equivalenti o coefficienti di flusso diversi per lo stesso oggetto quindi quando progettiamo dobbiamo far mente locale a quale tipo o quale coefficiente di flusso ci interessa per fare la nostra rete per avere una pressione che si accongura ma né troppo alta né troppo bassa perché quando noi dichiariamo un livello di prestazione no andiamo a dichiarare una portata ma anche una pressione minima se io mi trovo un asco magari che dà una portata molto importante con pressioni molto basse ad esempio prendiamo io avrei bisogno di 35 litri al minuto per questo livello di prestazione con una pressione maggiore uguale a 2 no io mi devo porre il problema di qual è il naspo più idoneo io ho fatto una tabella sostanzialmente in base al coefficiente del flusso semplicemente usando l'equazione che vi ho dato no allora ci vogliono ben 4 bar con un diametro equivalente del 6 tra i miei 34 35 litri se uso il diametro equivalente del 7 vedete mi basterebbero poco più di 2 bar no man mano che aumenta il diametro equivalente cosa succede che questa presidia dà molto più acqua ma siccome la pressione non può scendere sotto un valore rischio di progettare comportate superiori a quelle richieste dall'appendice B dello standard 1-17-779 che fissa livelli prestazionali quindi questa cosa accade per gli idranti sono idranti che risolvono i 120 litri famoso al minuto con 2 bar che hanno il diametro equivalente del 13 o un K diciamo uguale a 85 ci sono degli idranti come quelli più molto comuni a leva no che esistono anche nella versione con K 72 e per avere i 120 litri al minuto qua non li posso avere con 2 bar devo aumentare dico subito sono circa 275 e perché come faccio allora a fare questa scelta la scelta posso fare perché magari molta pressione preferiscono andare in eccesso di portata preferisco avere un buon lancio magari che è un eccesso di portata mentre se ho l'alimentazione l'acquedotto è molto probabile che mi sia costretto a scegliere un idrante di questo tipo perché mi eroga la portata minima richiesta di progettazione con una pressione più bassa chiaramente quando l'idrante è vecchio e non è noto il valore del suo coefficiente del flusso non è più stampigliato nell'etichetta di certificazione che troviamo normalmente all'interno ma va determinato perché se l'equazione è QK radice di P sappiamo benissimo per risolverla se mi manca il K devo avere la P quindi mi serve uno strumento e mi consideri di fare una misura durante la prova di determinare non solo la portata ma anche la pressione dentro il condotto gli idrati di sopra il suolo invece non hanno una prestazione loro certificata ce l'hanno ma non è relativa a quello che intende lo standard 1 non è la prestazione dell'attacco ma la prestazione che deve darmi il corpo in ogni caso sono previsti anche questi marcati CE 114344 e i modelli disponibili sono solo questi ad esempio i vecchi idrati di N65 non ci sono più bene andiamo a vedere a questo punto questo è un oggetto che io vi consiglio il più possibile di utilizzare perché è molto scomodo senza quello di CIN non si usa insomma è molto più lungo anche da preparare quindi per interventi importanti però a volte confino con una strada e non ci sono alternative quindi se voglio poter mantenere la strada fruibile non posso andarsi a mettere un idrante nel mezzo questi invece nel postetto li posso andare a installare quindi si utilizzano in Italia soprattutto laddove ho delle zone cortilive e trafficate e naturalmente abbiamo detto che sia per gli idranti sopra solo che per quelli sotto solo devo prevedere delle congegni di utilizzo perché senza quelli non possono essere usati quindi ad esempio anche solo la lancia la chiave per la gancia per serrare la manichetta al corpo dell'idrante la lancia queste dotazioni le metto a disposizione nelle vicinanze bene i livelli prestazioni vi ho saltato delle parti che riguardano la giustificazione del perché una lancia può avere un K o un altro che non necessariamente sono coniche quindi ci sono le formule che consentono di prevedere in base all'asperità qual è la pressione minima cioè la pressione la formula diciamo di scarica di quella lancia qua quali sono questi livelli di prestazione chiaramente livelli di prestazione così come le regole di progettazione di questi impianti cambiano cambiano da una rete di protezione interna alla rete scusate da una rete di protezione ordinaria a una rete di protezione esterna una rete all'aperto quindi per quanto riguarda la protezione interna la rete ordinaria può avere una successiva suddivisione con protezione interna e protezione esterna che possono anche coesistere ma non necessariamente alimentata dalla stessa fonte di d'acqua chiamala così e ho certi livelli di pericolosità 1,2,3 che mi fissa la norma e che io posso risolvere sia con dei nastri che con degli idranti e a seconda del livello possono chiedere una pressione maggiore o una portata maggiore per la protezione esterna il livello 1 normalmente non è prevista ma uno potrebbe anche decidere di metterla no? in ogni caso servono degli attacchi delle attacchi di N70 che sono tipici di idranti sotto e solo e di idranti sopra e solo con delle pressioni minime che però io vi invito a verificare perché queste pressioni minime prendono l'idrante conforme cioè vuol dire lo installo rispetto a questa pressione non posso dire che non funziona però dopo mi vanno a condizionare per la scelta della manichetta della lancia in dotazione perché vi dico con le lance normalmente in uso in Italia con 3 bar non si ottengono i 300 litri in minuto quindi uno dovrà andare a alzare la pressione per garantire che la questione di scarica garantita alla lancia poi mi consente di erogare i 300 litri in minuto richiesti dal livello di pericolosità chi dice se ci va la protezione esterna o ci va la protezione interna come al solito questo è l'ardo compito lasciato professionista cioè non è vero che se c'è livello 1 non ci va se c'è livello 2 ci va e livello 3 ci va può avere un senso può essere una cosa molto comune però questa valutazione è lasciata a professionista antincendi quindi è il professionista che decide e questi livelli di prestazione chiaramente devono tener conto se ha la rete esterna o meno perché se non ce l'ho e ci sono compartimenti grandi addirittura posso trovarmi in condizioni di dover raddoppiare gli sprinchi di protezione interna con non problemi attivi naturalmente quando c'è una rete che alimenta protezione interna e protezione esterna A come vi ho detto non è detto che debbano essere alimentati dalla stessa fonte B per quanto riguarda la protezione esterna sono ammesse anche delle distanze importanti purché si arriva ad avere a disposizione questa questa fonte quindi potrebbe essere un pubblico acquedotto che passa fuori dall'attività purché non sia eccessivamente distante dall'attività stesso in ogni caso se ho dei compartimenti importanti e lo metto a protezione esterna io mi potrei trovare dover raddoppiare il numero di idranti interni e dover considerare contemporaneamente attivi a progetto sostanzialmente quindi invece dei soliti tre idranti di 45 per livello per livello di prestazione 2 potrei trovarmi dove ne garantire 6 poi abbiamo discorso del rabbocco cioè per i livelli 2 3 se ho il previsto la rete di protezione esterna ho finito non ho da verificare altro per quanto riguarda le selezioni ma se sto facendo una rete livello 1 senza idranti soprassuolo e sottosuolo io dovrò andare a pensare che magari la potenza del rischio è corretta però devo dare a poter consentire ai vigili del fuoco di rabboccare i propri mezzi quindi devo dare a integrare il famoso idrante soprassuolo e sottosuolo che sia marcato adibito non tanto all'utilizzo del spegnimento ma a riempire gli autometri di vigili del fuoco e questo diciamo questo presidio deve darmi sostanzialmente 300 litri al minuto la durata i criteri di durata sono diversi tra protezione interna esterna eccetera però devo fare un dimensionamento corretto se riesco alimentarlo in modo alternativo alla mia rete idrante è un bel segno perché solo in subordine ha messo l'allacciamento alla propria rete no in sostanza subordine significa che solo non posso fare altro se non ho altre fonti questo è ovvio se io metto un idrante che aprendolo appena sicuramente già eroga 300 litri al minuto c'è una pressione significativa questo potrebbe fare crollare le prestazioni sugli idranti dove penso andare a mongere acqua per spegnere l'incendio quindi gli idranti protezione interna no oppure mi troverei che questi idranti sono ben alimentati quindi sostanzialmente è preferibile è preferibile derivare questo rabbocco da un sistema diverso che può essere dalla rete pubblica un'altra linea d'acqua privata pur che sia naturalmente limpida utilizzabile per usenti antincendio e i scenari di calcolo sono diversi perché le protezioni interne sono due verifiche farò una per la protezione interna e una per la protezione esterna la protezione interna è riferita a un compartimento antincendio la protezione esterna a tutto lo stabilimento quando parlo di reti all'aperta invece non abbiamo due scenari alternativi abbiamo una rete che posso fare capacità ordinaria o a grande capacità e quindi che succede non avendo i due impianti io non devo fare la selezione devo solo definire il livello di pericolosità e capire se lo consente lo standard se conviene fare una capacità ordinaria un sistema a grande capacità quando decide di fare una capacità ordinaria c'è anche qua il discorso del rabocco sostanzialmente per i metri vigili del fuoco andando avanti quindi cosa bisogna fare prima cosa quando parliamo di attività soggette controllo vigile del fuoco già dai tempi del DM 2012 la prima cosa è buttare giù una specifica tecnica questo concetto di specifica tecnica è stato oggi in sito anche nel DM1810 seconda cosa da fare è definire le varie fasi quindi le varie fasi è valutare il livello di pericolosità e assegnarlo definire per le reti idranti ordinari ad esempio se voglio fare solo la rete interna o anche la rete esterna poi andrò a vedere la sismicità dell'area installare di installazione per capire le problematiche e le prestazioni sismiche dello staffaggio andrò a definire le prestazioni idrauliche nominali che corrispondono a livello di pericolosità scelto per l'attività e eventualmente applico le riduzioni che la norma mi consente in caso di presenza in pianti automatici poi il secondo passo è quello di definire posizione e forma dell'alimentazione idrica sia coerente alla sua capacità con le richieste che ho in campo e verificare non esistono problematiche relative al gelo quando io uso l'acquedotto come alimentazione cosa che peraltro è ammessa devo verificare che questa sua prestazione sia sufficiente per alimentare correttamente i miei impianti quindi portate pressione ma noi siamo abituati in questo modo a fare spesso la richiesta all'IREN dai nostri parti magari voi avete un ente distributore diverso però mi garantisco che è molto difficile farse certificare queste prestazioni un'alternativa è che le possa certificare il professionista chiaramente ha senso se la cosa è una rete ben nota che è presentata in esperienza del progetto da un bel po' di tempo quindi sa meno male che la sua disponibilità sia abbastanza elevata perché se un acquedotto che c'è ogni settimana 5 ore di guasto probabilmente non è la fonte giusta all'alimentazione poi da definire tutto il layout dell'attività da scegliere le tipologie di apparecchi se uso i naspi che sono preferibili nella zona aperta al pubblico negli uffici o se uso le manichette che sono preferibili negli ambienti industriali dove c'è un rischio molto più grande definisco i percorsi idraulici del mio piping e poi faccio i calcoli idraulici per garantire e vincere quali sono le prestazioni richieste alla stazione di alimentazione per far funzionare i presidi più sfavoriti idraulicamente a garantire le prestazioni dei livelli di pericolosità minimo che ho selezionato e quindi io ho fatto un esempio molto semplice portata nominale pressione minima quindi è un livello di pericolosità 2 vengono fuori 3 idranti con 120 litri al minuto la pressione minima la pressione minima dell'idrante non deve essere inferiore a 2 bar portata nominale 4 attacchi a 300 litri al minuto minima pressione dell'attacco accettabile 3 bar per me sono pochi ma diciamo nell'esempio ci sta tutto quindi prendo l'esempio quindi la prima cosa vado a pensare il layout quindi troviamo tre compartimenti un ufficio una zona produzione una zona lavorazione questo è il magazzino prodotti finiti e quindi vado a vedere di disporli per rispettare cosa compartimento per compartimento rispettare le regole del figlio atteso no e non solo quella della distanza reciproca di due presidi quindi vado a fare le mie prime valutazioni prendo il reparto produzione utilizzo la regola della distanza l'aria coperta sostanzialmente vedo che con questi due idranti io potrei avere risolto il mio problema poi vado a fare la regola del filo teso cioè considerare i percorsi effettivamente le zone veramente protette tenendo conto che la presenza degli ostacoli che non possono essere rimossi e quindi magari si allunga il percorso lo sviluppo della manichetta diciamo così e quindi già da questa verifica salta fuori che ad esempio questi due idranti non bastano perché il filo teso mi lascia dei buchi ad esempio quella zona qua o questa zona qui la fine che si fa si integrano gli idranti che mancano per garantire rispetto ai percorsi di posizionamento e così funziona tutto dopo si passa magari al magazzino si fa lo stesso ragionamento tenendo conto che anche questo c'è anche per gli scaffali il problema anzi uno dei problemi maggiori per gli scaffali è rispettare questo discorso di distanza fra gli idranti quindi vado a fare la mia definizione di scenario e a questo punto ho disegnato la rete dopodiché ci state andare a risolverla con un calcolo idraulico evidentemente e questi sono i software quindi è un'impianta vedete molto banale poi in realtà non è così banale quando si fa in modo professionale però in campo troviamo qualche presidio con delle regole di distribuzione e mi serve il calcolo idraulico per farlo funzionare vedo che c'è mancante alimentazione inferiore a 60 ore all'anno io faccio la prova su un idrante in prossimità un attacco provvisore sull'acquedotto sia a tutto senso però ricordatevi state facendo la prova quel giorno non avete la storia dell'acquedotto e quindi quel giorno li funzionava ma dire quel giorno li funzionava non è in criterio di disponibilità Polizia avevo dato anche audio video alla persona che era al discente che ha fatto la domanda vediamo se è collegato abbiamo beccato che non è al computer va bene niente allora la risposta l'abbiamo data quindi ti lascio ti lascio procedere eccolo qua Angelo Angelo abbiamo dato risposta alla sua domanda sul discorso della dichiarazione scarsa di alimentazione ha sentito? sì sì questo vale anche per gli sprinca anche se è rarissimo trovare degli acquedotti in grado certo che di solito diciamo io conosco un po' gli acquedotti della zona quindi praticamente mi interessa più in quel determinato luogo se ci arriva le condizioni normali dell'acquedotto sì oppure lo faccio in orari dove so che non usano l'acquedotto tipo le 4 del pomeriggio ecco se lei fa la prova le 3 di notte chiaramente trova una situazione che è troppo ottimistica perché gli acquedotti sì chiaro voi a Brescia siete dei fortunati perché avete normalmente una certa abbondanza di risorse idriche dopo lì l'età compensa compensa nella conoscenza compensa nell'esperienza va bene è giusto va bene va bene allora è lasciata molto la discrezione resta il fatto che domani ne risponde quindi capire bene un attimo se c'è una credibilità una disponibilità di prestazione perché stiamo parlando di questo cioè devo avere l'impianto molto disponibile con quella prestazione vuol dire che le ore di guasto all'anno sono veramente poche rispetto al periodo in cui sta su ci sono delle donne d'Italia dove questo o degli acquedotti per cui questo è facile a dimostrare ci sono delle donne d'Italia dove questo è quasi impossibile e purtroppo spesso vengono coinvolti i centri storici per cui in un centro storico non si ha gioco a montare vasche stazioni di pompaggio queste cose qui no le prestazioni riportate a pressione si fa già fatica a farvi capire che devono essere in dinamica e non ci capiscono niente quelli dell'acquedotti esatto e loro ti danno la pressione statica che non serve esattamente niente esatto bene allora grazie per la domanda a questo punto io direi che siamo proprio a ridosso della pausa due parole solo sugli spreaker ecco la differenza degli spreaker è che è un impianto che è automatico fa cose molto diverse da un idrante sverso dell'acqua ma questo suo automatismo gli dà un notevole successo nella riduzione sia delle perdite per vite umane che perdite materiali e qua ci sono delle statistiche disponibili su NPA che vi dicono queste cose cioè che è un impianto che dà una certa efficacia e disponibilità per combattere questi problemi vedete queste statistiche NPA vengono valutate addirittura chi ha causato l'incendio sono studi abbastanza importanti e sono anche corredati dai fattori di successo cioè quante volte l'impianto springer è dato morale sono delle tubi con delle testine che scaricano però a progettare questi oggetti diventa è una cosa decisamente più complessa perché c'è una miriade di regole geometriche che di calcolo che di distanza da rispettare per cui è un lavoro molto specialistico poi tra questi impianti che scaricano ce ne sono degli altri che invece magari scaricano dei gas quindi sono disciplinati da altre norme vi dico questo è tutto sommato l'impianto di utilizzo più frequente che potreste trovare a utilizzare allora Marco ci fermiamo un quarto d'ora per la pausa poi proseguiremo dopo quindi avremo ancora una buona mezz'ora abbondante per proseguire allora io direi ci fermiamo per la pausa caffè ci rivediamo fondamentalmente alle ore 13 e 15 Marco buon caffè anche a te e a dopo grazie va bene quindi diciamo che poi lascio a voi continuare vedo che oramai vi lascio a voi eventualmente leggere le conclusioni vorrei andare solo a dare una risposta a una domanda che c'è in chat non è che questi strumenti vengono utilizzati solo dai vigili del fuoco nella maniera più assoluta l'impianto Watermist è un impianto di spegnimento nelle attività soggette in cui uno ritiene di volerle applicare quindi nella maniera più assoluta non è solo un discorso legato questa tipologia che abbiamo fatto vedere è una tipologia diciamo particolare che si possa utilizzare rispetto all'impianto statunituzionale che comunque si applica nelle diverse attività per alberghi per digitorie industriali per hotel per navi qualsiasi tipo di applicazione comunque c'è questo è una particolarità in modo tale che ci si possa comunque capire in questa applicazione anche portatile però il principio è quello che abbiamo visto la carini io la ringrazio le auguro mi scuso se ne abbiamo rubato un po' qualche rubate qualche minuto ma direi che a questo punto la lasciamo alla sua serata rispondo sicuramente alla domanda esistono anche di tipo sprinkler no l'acqua nebulizzata è acqua nebulizzata non è sprinkler lo sprinkler è quello che abbiamo visto prima Giaccarini vi auguro una buona serata la lascio salutare grazie buona serata a voi buona sera a lei allora a questo punto io direi che passiamo alla parte conclusiva del corso chiedo a tutti la massima attenzione per favore mettete l'orario sono le 17.39 se non lo mettete in chat così evitiamo che qualcuno non sia presente allora partiamo immediatamente con il test di gradimento necessario per avere un feedback da parte vostra su quello che è stato l'andamento il programma i relatori l'interazione l'organizzazione quanto quello che in qualche modo vi chiediamo un vostro feedback subito dopo passeremo invece al test di apprendimento sono 10 domande a cui dovremo dare le risposte dovrete dare risposte per il superamento necessario il 70% delle risposte che deve essere positivo vi lascio qualche istante per la compilazione del test di gradimento una volta terminato potete inviare il documento e noi andremo poi a dare il test di apprendimento lascio qualche istante prego grazie a tutti bene allora andiamo a questo punto vado a condividere il test di apprendimento in questo caso tutti i campi sono obbligatori dovremo dovrete indicare i vostri dati personali e dopo di che una volta che siete pronti andiamo a leggere le domande io vi leggo le domande voi date le risposte all'interno del documento che state compilando e che rimane agli atti del ministero dell'interno e dopo di che andremo a verificare e darete la risposta anche all'interno della chat serve a noi per poter verificare se la domanda letta è stata correttamente interpretata allora vi lascio qualche istante ricordo che anche questa fase anche questa parte audio video registrata e pertanto per la regolarità e la trasparenza dell'esecuzione del test di apprendimento attendo quando voi siete pronti ok perfetto allora andiamo con le domande sono domande molto semplici vi prego di prestare l'attenzione di indicare la risposta e di ascoltare con attenzione le domande allora domanda numero 1 nella revisione 2021 della DC779 quale parametro aggiuntivo deve essere indicato nella relazione tecnica a il fattore di smottamento del terreno b la pressione nominale dei componenti e la sua individuazione oppure la pressione notturna a b o c domanda numero 1 non sorridete se trovate delle risposte come dire abbastanza birlacche ma serve proprio per dare una mano nell'individuare la risposta corretta domanda numero 2 e vi prego di indicare anche per gentilezza il numero della domanda così posso verificare le vostre risposte a che cosa fanno riferimento le valvole di sezionamento dell'anello antincendio servono a che cosa a escludere una parte occorsa in un guasto mantenendo funzionante la parte non danneggiata b per i collaudi c per completare la specifica tecnica ok domanda numero 2 perfetto perfetto grazie passiamo alla domanda numero 3 il livello di pericolosità di una rete idranti si determina in base a domanda a della rto dm 18 ottobre 2019 oppure dalla valutazione del rischio per attività specificatamente normate eventuali prescrizione di regolamenti di prevenzione incendi o dal decreto impianti 2012 2012 oppure risposta c in base a equivalenza con il dm 10 marzo 98 rischio basso pericolosità 1 rischio medio 2 alto 3 a b o c quindi il livello di pericolosità di una rete idrante si determina in base a che cosa al decreto alla valutazione del rischio eccetera eccetera o in base all'equivalenza del dm del 10 marzo 98 domanda numero 3 non può essere che solo quella domanda numero 4 le reti idranti secondo la 10 779 si distinguono principalmente fra reti ordinarie e all'aperto b reti esterne e reti interne oppure c reti ad alta pressione e reti a pressione ordinaria a b o c domanda numero 4 non vi dimenticate signori di dover inserire la risposta nel documento ufficiale che avete che è quello che avete aperto con il lì che è quello che rimane agli atti domanda numero 5 le reti le reti all'aperti richiedono almeno un idrante 1i70 sopra suolo o sottosuolo con forma 1iN 14384 o 1iN 14339 per il rabbocco dei mezzi WWF portato almeno 300 litri minuti cauduro collegato alle reti acquedotto pubblico o privato o in subordine derivanto dalla stessa rete idrante a a almeno 2 non contemporanea alla protezione interna b solo per il livello 3 in alternativa alla rete esterna 120 minuti di funzionamento oppure risposta c solo per il livello 2 e 3 contemporaneo con funzionamento della rete idrante per tutta la durata del livello di contemporaneità quindi domanda numero 5 a b o c domanda numero 6 l'azione della tecnologia water mist nello spegnimento del fuoco è maggiore per a per l'effetto bagnante dell'acqua che raggiunge la fiamma b per la rapidissima evaporazione dell'acqua in micro gocce c soprattutto per la velocità delle micro gocce a b o c qual è l'azione della tecnologia water mist nello spegnimento del fuoco a b o c ottimo un sistema estinguente water mist può essere mobile e fisso solo fisso o solo mobile a b o c domanda numero 8 un sistema estinguente in water mist è più efficace se a fisso per la sua ampia distribuzione b mobile perché raggiunge il fuoco da vicino oppure c dipende dalla situazione quindi un sistema estinguente acqua lembulizzata è più efficace se è fisso è mobile o dipende dalla situazione bene ok ricordatevi di compilare anche il documento ufficiale formale che è all'interno che avete aperto con il link il backdraft è a un'esplosione un tipo di ugello o un sistema water mist specifico domanda numero 9 che cos'è il breakdraft ok perfetto passiamo all'ultima domanda del test quindi siamo perfettamente in orario l'abbassamento dell'energia del fuoco in un sistema water mist maggiormente è dovuto quindi da al calore specifico dell'acqua alla temperatura dell'acqua al calore latente dell'acqua beh io direi che dalle risposte visto all'interno della chat possiamo dire che tutti abbiate superato il test allora signori potete utilizzare il tasto invio riceviamo il documento subito dopo potete anche fare la verifica del risultato ricordo che l'attestato di partecipazione per chi ha superato il test sarà disponibile non prima di quattro giorni lavorativi dopodiché a vostra cura dovrete inviarlo all'ordine di appartenenza che provvederà all'aggiornamento delle ore per il mantenimento di iscrizione all'album ministeriale signori se avete terminato potete inviare il documento e potete anche abbandonare la piattaforma col tasto centrale termina meeting termina di unione grazie a tutti voi e una buona serata grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri